La rassegna stampa del mattino E i giornali come sempre Andiamo a vedere il cartello Con il santo di oggi Oggi è San Giacomo Apostolo Il sole è sorto alle 5.49 Tramonterà alle 20.40 Il tempo Andiamo sul bollettino della protezione civile delle Marche Per oggi avremo cielo sereno nuvoloso Con possibilità di rovesci residui nella notte Ma anche nel primo mattino In particolare nel settore costiero centro-meridionale Non si escludono brevi isolati piovaschi pomeridiani Sui rilievi medidionali Mentre per la giornata di domani Il tempo migliora Sereno o poco nuvoloso Con temperature in aumento Lunedì 27 cielo sereno Con temperature ancora in lieve aumento E la prossima settimana come vedremo Sarà tempo molto stabile E molto caldo Con temperature che arriveranno anche A 38-39 gradi Tomi si trova in spiaggia Perché ha iniziato a lavorare Buongiorno O devi iniziare ancora? Buongiorno Buongiorno Chiudo il collegamento e comincio Ah ecco Quindi inizi proprio alle 7 del mattino Con noi Con il collegamento insieme alla TV Assolutamente Ho capito Allora Vedo che insomma Dietro di te C'è uno scenario Piuttosto inquietante Con nuvole Nuvoloni Cumuliformi Cumulonembi Si chiamano Giusto? Beh assolutamente Giusto Sì Adesso fanno un po' paura Ma adesso Capiamo se Se ne stanno andando Se hanno ancora voglia Di fare qualche Qualche bisogno di temporale Ma siamo fiduciosi Dai Speriamo che se ne vada Comunque le previsioni per oggi Mi pare che indichino Miglioramento del tempo L'abbiamo visto adesso Insomma Quindi forse Sarà una questione di ore Una questione di ore Poi invece La prossima settimana Puoi confermarmi Forse arriverà il gran caldo Eh certo Tutte le previsioni Lo prevedono Quindi Siamo Stracarichi E super fiduciosi Che sia una settimana Caldissima E piena di turismo Per Fano E soprattutto Voi avete l'acqua Quindi se sentite caldo Fate qualche metro Facciamo un tuffo E fate un bel tuffo Noi invece Dobbiamo giocarcela Con qualche condizionatore In più acceso Bene Grazie A Tommy Buon lavoro Buona giornata Adesso i giornali Cari telespettatori Cominciamo con Il resto del Carlino di Pesaro Che apre con una vicenda Di qualche anno fa Era il primo dicembre Di qualche anno fa Un uomo Un pescatore Inghiottito dal mare Era stato speronato Da una barca Fu speronato Da un motopesca Di un armatore riminese Che è stato condannato La tragedia è quella Di Fabio Franchini Il cui corpo però Non è stato mai ritrovato Il Carlino appunto Racconta e riporta Questa condanna Del Tribunale A centro pagina invece La foto dell'assessore Pesarese Enzo Belloni In Viale Trieste Dove divampano le polemiche Soprattutto su una delle isole pedonali Il titolo Sulle isole tiro dritto Dice Belloni Viale Trieste Le proteste non si fermano E soprattutto Non fermano L'amministrazione pesarese Che dunque Tira dritto E va avanti Verso le regionali Le sardine in bicicletta Ieri Mentre oggi Arriva Matteo Salvini A Pesaro Nuovo contagiato Aveva avuto anche Molti contatti Parliamo del coronavirus E a Fano Più spazi e turisti Pace fatta Sotto gli ombrelloni Il caso Gradara La Rocca Non andrà Al comune Sotto invece Presentata Alle scuderie Del Quirinale La medaglia Su Raffaello Che è già andata A Ruba Mentre sullo sport Il basket VL È in salita La strada Per avere Tyler Kane Mentre sul Corriere Adriatico L'apertura Dell'edizione Di Pesaro È per Le scuole Scuole Un taglio Al Tonelli Il titolo Pochi I nuovi alunni Iscritti alla media Anna Frank Nel futuro Dell'istituto Comprensivo C'è la soppressione In commissione comunale La riorganizzazione Dell'attività didattica Il piano Per gli altri Plessi Del territorio Centropagina Anche qui L'isola pedonale Voluta Su Viale Trieste Gli albergatori In pressing L'ordinanza Per i taxi Non basta Poi pochi parcheggi E troppe multe Anche la questione Dei parcheggi A Fano Diventa Calda La questione Perché in piazza Andrea Costa Dove c'è il mercato del pesce Con la nuova ordinanza Che ha eliminato Di fatto Tutte Cioè i parcheggi Quindi più di 80 parcheggi E le auto Praticamente in tutta la zona Sta creando molti malumori Soprattutto Anche L'altro giorno Quando è piovuto E in piazza Lì praticamente Non c'era nessuno Un deserto Un deserto completo Totale E non dimentichiamo Che su quella piazza Insistono comunque Delle attività commerciali Ieri Giornata Di maltempo Vento Pioggia E un'enorme nuvola Questo è il titolo Del Corriere La pagina di Senigallia La maledizione Prima del weekend Cassonetti rovesciati Rami caduti in strada Marzocca Allagato il sottopasso Per la statale 16 Commercio in lacrime Per Paolo Silvestrini Restiamo in zona Senigallia Morto a 61 anni Il ristoratore Paolo Silvestrini Era stato socio Insieme al cognato Del ristorante Loli Di Cesano Questa mattina Alle 10.30 Nella chiesa parrocchiara Appunto di Cesano Ci saranno I funerali Aveva 61 anni Lottava da tempo Contro una malattia Il decesso Affano Disperso in mare Condannato un armatore Per quel tragico Naufragio Qualche giorno fa E' stato condannato Un armatore Riminese L'uomo 60 anni L'armatore E' stato condannato Per omicidio colposo Ad un anno e mezzo Con il beneficio Della pena sospesa La famiglia della vittima E' stata risarcita Dall'assicurazione Con una cifra Che sfiora Il milione e mezzo Di euro La tragedia Si era consumata Il primo dicembre Del 2014 A dare l'allarme Quei lunedì pomeriggio Era stato un collega Di Fabio Franchini Aveva 46 anni Lo vedete In questa immagine Andiamo sulla pagina Del Corriere Per dare Anche questa mattina E fare un punto Della situazione Sui contagi Nella nostra regione Perché sapete Che insomma Andiamo a vedere Adesso invece Il riquadro In alcune regioni La situazione Dell'R Conti Insomma L'indice di contagio E' un po' superiore Alla norma Per esempio Se andiamo a vedere A cerchiare Le regioni Che sono sopra All'1 Abbiamo l'Emilia Romagna Qui vicino a noi 1,14 Poi che superano All'1 C'è il Veneto 1,18 Così come Leggermente il Piemonte 1,7 La Liguria 1,6 E il Lazio 1,04 Mentre Ci sono regioni Che sono Praticamente a zero Come la Calabria Come il Molise Le Marche Direi che vanno Piuttosto bene Perché abbiamo Uno 0,62 0,62 Ora A detta degli esperti Insomma Le Marche Registrano una performance Migliore rispetto Alla media nazionale Anche Nell'indice di positività Al test Il rapporto Tra nuovi casi Di contagio E il totale Dei tamponi Esaminati Nell'ultima Appunto Settimana L'indice Della nostra regione È stata Di 0,002 Insomma Parliamo di 0,002 E quando c'è Lo 0,001 Insomma Non c'è Molto da preoccuparsi Ma è chiaro Che dobbiamo sempre Stare molto Attenti E questo ce lo dice Anche Il nostro Amico ingegnere Francesco Foschi Che ieri Siamo andati A trovare a casa Li ringraziamo Ringraziamo Tutta la famiglia Che ci ha accolta Ci ha accolti Anche con le nostre telecamere So che ci guardano Anche al mattino Quindi vi salutiamo anche Ecco qua Una bella foto Una bella immagine Di Francesco Anche insieme A tutti Gli amici Insomma La comunità Tra Montecchio E la Psella Accolto L'altra sera Il suo ritorno Una felicità Attesa Da mesi E alla collega Solidea Vitali Rosati Del resto del carino Insomma Francesco racconta Insieme ai suoi familiari Un po' quello che è stata La sua degenza La sua malattia Ma adesso il ritorno Ma anche la telefonata Del Papa Di Papa Francesco Che ha telefonato Prima a lui Poi anche alla finanzata Insomma La gioia Dicono La sua vicinanza La vicinanza del Papa Resterà un ricordo Preziosissimo Nella nostra vita Dice Gioia Abbiamo promesso A Papa Francesco Che avremmo pregato Per lui È stato veramente Eccezionale Sentirlo al telefono Ci ha aiutato tanto Del Santo Padre Mi ha colpito La grande semplicità Quando gli ho chiesto La cortesia Di telefonare a Francesco Lui ha detto sì E poi si è segnato Il suo numero di telefono Ecco L'immagine di lui Che lo annota Questo numero Su un pezzo di carta È a me carissima E quindi questa è una parte Del racconto Che troverete sul giornale Di questa mattina Dai mobili Al volontariato Addio a Gianfranco Battistoni Sempre sul resto del Carlino Iniziò nella bottega artigiana Del padre Onelio Poi proseguì Alla Marchigiana Mobili Si è dedicato A facilitare L'adozione dei bambini Dalla Bielorussia È un ricordo Che fa questa mattina Luigi Diotalevi Di Gianfranco Battistoni Che all'età di 76 anni È tornato Alla casa del padre Molto noto in città Per essere stato Il giovane In giovane età Un mobiliere Prima nella bottega artigiana Del padre Che tra l'altro È morto lo scorso anno A 103 anni E poi con l'azienda Marchigiana Mobili Qui si è dedicato Molto al volontariato Con innumerevoli viaggi In Romania E l'adozione Dei bambini Della Bielorussia Il rito funebre Si terrà oggi Con inizio alle ore 15 e 15 Nella chiesa di Santa Croce In via Lubiana Sempre sul resto del Carlino Parlavamo E dicevamo all'inizio Della nostra segna stampa Di questo nuovo positivo A Macerata Feltria Questa persona Ha avuto anche Molti contatti Dunque saranno necessari Numerosi tamponi Per evitare Focolai Poi c'è stato Un altro contagio A Monte Copiolo Per quanto riguarda i contagi Il Gores Il Gores Che coordina L'emergenza sanitaria Ha segnalato Questo nuovo positivo Che è stato rilevato Nella provincia di Pesaro Si tratta di un 44enne Che potrebbe essere Stato vittima Di un contagio Familiare Il padre Il padre infatti era stato colpito Dal covid Un paio di mesi Addietro L'uomo ha avuto Anche molti contatti sociali Quindi sono previsti Molti tamponi Come dicevamo A garanzia Soprattutto per evitare Che si crei un focolaio Nella zona Nella zona di Macerata Feltria C'è anche un secondo caso Nella nostra provincia Sebbene non presente Nel conteggio del Gores Si tratta di un uomo Di Monte Copiolo Che ha svolto Accertamente All'ospedale di Nova Feltria Che dunque È in provincia Di Rimini Dove il tampone È risultato Positivo Probabilmente Si è rivolto Ai sanitari Dopo aver accusato I sintomi Tipici Del covid-19 Per quanto riguarda Invece I ricoveri Scrive sempre Il resto del carlino Si registra Ancora un paziente In terapia intensiva Nell'ospedale di Pesaro Nell'ospedale di Marche Nord Ma ormai Lo conosciamo bene Perché è Una persona Che è In terapia intensiva E lo stanno curando Con il plasma Iperimmune L'ospis Di Fossombrone Raddoppia i posti Un cantiere Da 400 mila euro Talè e Bonci Battezzano L'avvio dei lavori Al primo piano Della struttura Sono iniziati Questi lavori necessari All'ampliamento Dell'ospedale di Fossombrone Che passerà dunque Da 10 A 20 posti letto Sottolinea Talè Consigliere regionale Che ha seguito Dall'inizio Questo importante Progetto E poi Sempre sulla pagina Della valle Del Metauro Ci sono C'è anche L'altra notizia Ecco Quello Dei sette Tunisini Che sono Sono Usciti Sono Fuggiti Dalla quarantena Obbligatoria Dopo la fuga Dal centro Di questi sette Tunisini Dal centro Di accoglienza Di Cartoceto L'altra sera Ne sono arrivati Altri otto Ma per le Tre mamme E i loro bambini Sarà necessario Un trasferimento In un centro Per minori Stante alla Promiscuità Del centro Non all'altezza Della situazione Così come ha detto E ha spiegato Il sindaco Enrico Rossi Lunedì invierò Alla prefettura Dice sempre il sindaco Una relazione Dell'assistente sociale Per fare il punto Della situazione La novità importante È L'impegno assunto Dall'Asur Di rendere noti In tempi celleri Gli esiti Dei tamponi Ai quali Migranti Si devono Sottoporre Anche per dare In qualche modo Una sorta Di rassicurazione A tutte le persone Che abitano lì In quelle zone Lì vicino Insomma A Fano Più spazi Più turisti Pace Fatta sotto Gli ombrelloni Compromesso Tra i bagnanti E gli albergatori Il comune Di Fano Rivaluta Le richieste Di ampliamento E le nuove aree Sono da destinare Agli ospiti La guerra Degli ombrelloni Tra bagnini Albergatori E bagnini Che non hanno Ombrelloni Da fornire Ai turisti Che vengono A soggiornare Negli alberghi Della nostra città È stata individuata Una possibile soluzione Il comune Si impegna A rivalutare Le richieste Di ampliamento I 12 metri Quadrati Secondo quanto Previsto dalla regione In via del tutto Eccezionale Per questa stagione Per le concessioni Più grandi Che solo pochi giorni fa Erano state respinte Quindi potrebbe Rivederle Quindi concedere Questi 12 metri In più Di conseguenza Piantare Qualche ombrellone Per sfidare il mare Il terreno Lo vedete In questa fotografia Qui Si tratta di un cane Prove di salvataggio A torrette di Fano C'era anche il cane Del gruppo cinofilo Gramolini Che è responsabile Dice Queste le insidie Dell'acqua Insomma I cani che servono Per salvare Le persone Che si trovano In difficoltà In acqua E anche loro Danno manforte Un cinquantenne Invece A cavallare di Mondavio Incendia la sua auto Per protesta E viene poi portato Ovviamente All'ospedale Si tratta di un cinquantenne Di Coglie al Metauro Che dopo subito Aver incendiato La sua auto Per un conflitto Maturato In ambito familiare Ieri intorno alle 6 del pomeriggio Mentre era Insomma Lungo la strada Che collega Piaggia La frazione di Cavallare di Mondavio È stato caricato A bordo Di un'ambulanza Del 118 E portato in ospedale Non è ferito Non ha ustioni Ma il suo stato di agitazione Avrebbe indotto i sanitari Alle cure opportune Del caso Parliamo del centro Alzheimer Margherita Sapete anche la nostra televisione La nostra emittente Fano TV Dopo aver ascoltato Le testimonianze Dei familiari Che vivono Sulla propria pelle Il disagio Di avere in casa I familiari Che non riescono A essere seguiti Come dovrebbero Perché avere un malato Di Alzheimer in casa Non è facile da trattare Quindi sappiamo In questi lunghi mesi Di blocco totale Il lockdown Quanto hanno sofferto E quanto stanno soffrendo Queste famiglie Che hanno a carico Appunto Queste persone malate Mila euro Per riaprire Questo centro Margherita La delibera È stata portata In consiglio Andrà all'approvazione Del consiglio comunale È passato in giunta Ovviamente E nella prossima seduta Quella del 30 di luglio Insomma Dovrebbe passare Senza grossi Grossi problemi E di conseguenza La struttura Potrà Riaprire E dunque Ospitare di nuovo Queste persone Queste persone malate Di Alzheimer E dunque Alleggerire Liberare Un po' E dare un po' Di sospiro E un po' Di sollievo Alle famiglie Di farle tornare Un po' Alla loro normalità Dopo tutti questi mesi Davvero Difficili Poi c'è Sul Corriere Adriatico Di Fano Un'altra notizia Che invece riguarda Una protesta Una protesta Che riguarda L'ingresso Del distretto sanitario Dove ci sono persone Vengono registrate Persone in fila Sotto un sole Coccente Davanti all'ingresso Del distretto Parliamo di quello Di via 4 novembre A Fano Ieri mattina C'erano queste code Di persone Sotto il sole E allora La Tarsi Dice È possibile Che nessuno pensi Ad un ombrellone Oppure ad un gazebo Per far riparare Queste persone Che sono in fila Dal sole Coccente Anche il resto Del Carlino Si occupa Del centro Margherita Quindi anche loro Lo danno Per confermato Questa riepertura Spiraglio Nella drammatica Vicenda Prevista La riattivazione La riattivazione A metà di agosto Grazie ai 40 mila euro Del comune E il 3 Ci sarà un incontro In regione Sindaco Seri Dice Noi abbiamo tirato fuori I soldi Adesso però Deve muoversi Anche la regione Il cante di Montevecchio Invece Afano Sempre tamponi Negativi Per ospite E personale Anche qui Sospiro Di sollievo Dunque Possiamo dire Che l'allarme Al cante di Montevecchio È rientrato E tutti Sono Insomma Tranquilli Sollevati Perché Perché Aveva messo in allarme La scoperta I primi di luglio Dell'improvvisa Ed inspiegabile Positività Al test del coronavirus Di una residente All'interno Del cante di Montevecchio Una settantenne Che è stata subito Isolata Al manifestarsi Dei primi sintomi Influenzali Però poi Capite che Insomma Essendo all'interno Di un'associazione Di un complesso Dove ci sono anche Altre residenti Era scattato Subito l'allarme E la preoccupazione Che il contagio Potesse aver Fatto Altre vittime In qualche modo Andiamo sul Corriere Adriatico Questa fotografia È molto Esplicativa Dice molto Eloquente Si tratta di Piazza Andrea Costa Una piazza Andrea Costa Così come Verbe da dire Non l'avete mai vista Nel senso che qui Un tempo c'erano Ottanta stalli Azzurri Con Ottanta automobili Che potevano Parcheggiare Sia di giorno Che di notte Tranne quando c'è il mercato E quindi ci sono Le bancherelle Ora Il problema Del centro storico Di Fanno È quello che Mancano i parcheggi Ed in conseguenza Fioccano le multe Ma piazza Andrea Costa Resta senza auto E assomiglia A un deserto Scarsamente illuminata Non attrae Non attrae né passeggio Né presenza Né presenza Ma riesce a mandare In tilt La viabilità In effetti Tenere Quest'area Dove fondamentalmente C'è poco o nulla A parte qualche Esercizio commerciale Che resta aperto Di giorno Chiaramente Ma che di sera Resta chiuso Ecco Vederla così Non è certamente Un po' Desolante Soprattutto per chi Magari passeggia Faccio solo Per farvi capire Qua dietro C'è piazza 20 Settembre E se girate Qui a destra C'è Corso Matteotti Quindi siamo Nel cuore Praticamente Della città Basta fare Soltanto 30 metri Si arriva in piazza E 30 metri a destra Si arriva E 50 metri Si arriva a Corso Matteotti Ecco Questo è uno spaccato Chiaramente desolante Di quello che è Piazza Andrea Costa Ora Allora a questo punto Forse meglio Metterci un mercatino Serale Che potrebbe attivare Con qualche Bancarelle Di quelle di legno Insomma qualcosa Del genere Che potrebbe ravvivare Un po' L'area Altrimenti così Non ha molto senso Non solo taxi Torniamo a Pesero Non solo taxi Albergatori in pressing Chiedono maggiore Elasticità per l'isola Anche Pesero Vive il problema Tra gestori Di locali pubblici E comune Per quanto riguarda Gli spazi Sapete che il covid Dovendo garantire Le distanze di sicurezza Anche nei locali I comuni Hanno dato A tutti quanti La possibilità Di mettere Tavolini fuori Di allargarsi Eccetera eccetera Per continuare L'attività Di conseguenza Si sono ristretti Gli spazi Perché gli spazi Sono sempre quelli Quindi se andiamo Per i tavolini Evidentemente Non ci sono Per le auto E per il transito Dei mezzi Così Via Le Trieste A Pesero È stata praticamente Pedonalizzata Il problema è che I gestori dei locali Lungo i tratti pedonali Di Via Le Trieste Continuano a lamentare Un calo degli incassi Quindi guadagnano Molto meno Rispetto agli anni Precedenti E quindi c'è questa Polemica Che continua Anche questa mattina Sul giornale Poi un turista Che va a correre Ma si perde È stato ritrovato Sulla spiaggia Di Fiorenzuola Grazie ai suoi amici Era uscito Dall'albergo Per andare a fare Una corsetta Per tenersi Un pochettino in forma In vacanza Che deve fare E quindi Ha cominciato a correre Però poi ha perso Il senso Dell'orientamento Si è smarrito E non è più riuscito A tornare nel suo albergo È successo ieri Per fortuna Tutto è andato bene Alla fine Insomma perché Nel frattempo Era stata attivata Anche la macchina di soccorsi Quindi allertando I carabinieri E altre forze dell'ordine Quindi questo turista Olandese Di 45 anni Che in questi giorni Sta soggiornando Insieme ad altri Connazionali A Gabice Ieri mattina È riuscito poi A tornare Tornare indietro Beh immaginiamo Sai Passo dopo passo Corsa dopo corsa Imboccando la strada panoramica Del San Bartolo Con tutti i suggestivi Sentieri del parco Con tutti Con gli scenari Stupendi Naturali Che avrà visto Ha perso L'orientamento È rimasto Imbambolato E quindi Ha dovuto poi Rientrare Poi alla fine Insomma Alla sera È tornato Tranquillo Proteste Incassi a picco Non bastano Invece Per fermare Il comune Di Pesero E l'assessore Bellone Che dice No 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 Noi andiamo dritti Anche se Anche se I commercianti I negozianti Di Viale Trieste Si lamentano Perché Guadagnano Incassano di meno Non basta questo Per farci tornare indietro Dunque Sulle isole pedonali Noi Dice Enzo Belloni Noi come comune Andremo avanti E c'è un'intervista C'è un'intervista Che questa mattina Il giornale Fa all'assessore E Dove spiega un po' Il perché Di questa decisione Di andare avanti Con le isole pedonali Un pendolare della droga Invece Quello Mordi e fuggi Per rifornire I pusher Del miralfiore Resta a Villa Fastigi Il tunisino Era stato arrestato Dalla polizia L'attività condotta Sfruttando anche Gli appigli di legge Insomma Questo per dire Che resta in carcere Questo 42enne tunisino Già noto Le forze dell'Urne Che era stato arrestato Nei giorni scorsi Dagli uomini Della scuola mobile Perché Faceva avanti e indietro Per rifornire Gli spacciatori Del parco Miralfiore A Borgo Santa Maria Invece è una lite Tra moglie e marito Arrivano anche i vigili urbani Una mattinata concitata Ieri mattina In un condominio Di Borgo Santa Maria Dove è scoppiato Un violento litigio Tra una coppia originaria Dello Sri Lanka Con il marito Che avrebbe alzato la voce Minacciando E impaurendo La moglie I vicini sentono I toni piuttosto accesi Hanno dato l'allarme Sul posto E giunta una pattuglia Della polizia locale Che ha riportato L'uomo A più miti consigli Fungendo Da Paceri E questa È la pagina Ancora Del Corriere Adriatico Pugni e morsi Ad un poliziotto Confermata la condanna In appello A tre anni e quattro mesi Al nigeriano Che aveva aggredito L'agente Sepede Premiato Tra l'altro Lo vedete Nella fotografia Anche dal sindaco Di Pesero Matteo Ricci Andiamo nella pagina Di Urbino La buona notizia È che la mostra Impossibile Torna a casa Raffaello Da tutto il mondo A Urbino Inaugurata l'esposizione Che propone La riproduzione Di 45 grandi opere Del divin pittore Visitabile nel palazzo Dell'omonimo collegio Dunque Questi 45 dipinti Riprodotti in scala 1 a 1 Permettendo E permetterà Di ammirare In un unico allestimento Opere disseminate In 17 paesi diversi Quindi C'è la possibilità Di rivedere Tutte queste opere Tutte messe insieme In un unico posto Mentre domani Prove tecniche Di avioturismo La pista D'atterraggio Sul lago A Mercatale Una struttura Per accogliere Velivoli turistici In arrivo Dalla nord Europa Può essere interessante Questa Questa Aviostazione Realizzata Nel lago di Caccamo A Macerato Un'altra struttura simile Si trova anche Nell'Ascolano E dunque A Sasso Corvaro C'è questo progetto Innovativo Che riesce a legare Anche queste Queste situazioni Di gente che arriva Con l'aereo A posto di arrivare Con la macchina Arriva con questo aereo La battaglia del Metauro Però deve poter Atterrare in qualche modo E quindi c'è questa possibilità La battaglia del Metauro Appesa al muro C'è un maxi affresco Di 100 metri A Cerbara Siamo sempre nel Fanese Sull'epica Vittoria dei Romani Contro i Cartaginesi Sarà firmato Da Natale Patrizzi In arte A Gra Addio a Francesca Rovinelli Gestì a Marotta Una nota Sala giochi E scomparsa improvvisamente Mercoledì sera All'età di 53 anni La marottese Francesca Rovinelli Ed ora Tutta la comunità Piange una donna riservata Ma molto conosciuta In quel tratto Di riviera Adriatica Che per aver gestito Negli anni 90 Una frequentatissima Sala giochi E questa era L'ultima notizia Della nostra Rassegna stampa A questo punto A me non resta altro Che augurarvi Un buon sabato Una buona domenica Quindi un buon fine settimana In compagnia Dei nostri programmi E quindi L'augurio Di un sereno Fine settimana Noi ci rivediamo Lunedì mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Noi ci rivediamo 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 Noi ci rivediamo